e benvenuti al nostro appuntamento settimanale della domenica mattina con caffè in farm domenica caffè in farm benvenuti a tutti anche a questo nostro appuntamento della mattina qui su farming simulator 19 e allora innanzitutto vi do il buongiorno e iniziamo a lavorare sul campo qui iniziamo a preparare il campo per vedere poi cosa dobbiamo seminare e allora salve a voi che in questo momento mi state guardando in diretta ma un saluto particolare a tutti quanti voi che state guardando questo video mi replica qui sul canale twitch e ovviamente sul canale youtube e allora iniziamo il nostro lavoro qua e allora ditemi un poco come avete passato la serata del sabato spero alla grande ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con caffè in farm domenica caffè in farm Ciao a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il nostro appuntamento è di dimanche domenica café in farm dimanche café in farm bonjour salut bienvenu merci pour avoir choisi de me faire de l'accompagner et donc aujourd'hui on va passer une deux heures dans cette matinée est ce que vous avez bien passé votre samedi soir j'espère naturellement de oui j'espère que vous avez passé une très grande très belle soirée et on va prendre un café dans ce format là mais vous pouvez prendre ce que vous voulez au bar de la farm et donc à vous et maintenant on va attendre que quelques amis quelques amis va nous rejoindre pour faire pour parler un peu et alors merci beaucoup à vous que vous êtes en train de me faire accompagner pendant cette directe et naturellement merci à vous vous êtes en train de regarder ce vidéo en réplique de mon canale ici sur twitch naturellement sur youtube è alors on va bien 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 yir abbiamo anche confrante traverser verser 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 par la traumatice que sindu tellement alors tout don une et caratteristica insomma le nuove featuring di questo gioco sono davvero interessanti ovviamente abbiamo molte di quelle funzioni che prima avevamo qui sul 19 sottoformamenti mods adesso li abbiamo di default come ad esempio la possibilità di acquistare macchinari usati poi abbiamo le mod integrate quindi parliamo delle strutture e delle serre che ci permetteranno appunto di poter guadagnare un po' di punti extra e ancora altre cose ok dai diciamo che al momento sono un po' privo di di idee sul raccolto e pensavo di assimilare un po' di colza su questo campo poi off camera ovviamente questa settimana mi sono portato un po' di di lavoro avanti quindi ho portato ho portato alcune piccole modifiche nell'area accanto al all'area appunto dove noi abbiamo installato la fabbrica dello zucchero e ovviamente anche caffè patacca il caffè che spacca ecco qui il nostro primo sponsor caffè patacca della premiata ditta macho king e allora facciamo un po' oh la 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 oh la la ma e ovviamente poi a proposito di farming 22 ovviamente ehm l'animazione è migliorata tantissimo l'animazione per quanto riguarda anche la lavorazione del terreno poi per quanto riguarda diciamo effetti quindi tipo le le polveri queste cose qui ecco diciamo che sono mmm grosso modo quelle lì poi ovviamente hanno anche aumentato il dettaglio dei materiali di di scarto di lavorazione della tribbia infatti infatti da lì si potranno notare come eh ci saranno eh residui di eh bastoncini diciamo così che eh sono ben visibili e quindi gradualmente iniziamo a scaldare la boccia stamattina anche io mi sono svegliato un po' più tardi quindi è per questo che non mi state vedendo in camera perché diciamo che ehm mi sono messo un po' comodo quindi ho pensato quindi ho pensato che ho pensato che ho pensato che ho pensato e e ho pensato e ho pensato durante questa settimana ho lavorato molto sulle di una camera i added sugar farm me horse husbandry e e e e non ricordo i non ricordo dei I soldi una macchina perchè non ho usato e ho ricevuto extra money Ah! I bought again 2 orsi and they are called Toto and Sofia in honor of Antonio de Curtis that is a comic actor very famous here in Napoli he was a prince and he did and helped a lot of Neapolitan families that weren't in good condition economical condition to live in a good way and during the night times he got turning in in his quarter and he went to keep some money under the windows under the doors and he did those things not in the under the sunny light and that's why we love so much Antonio de Curtis that is the real name of Toto that's why we love so much and so much this person here in Napoli we we appreciate this this person and we say rich in money and rich in the heart that's why that's why that's why that's why Antonio de Curtis he also he made a film with Fernandez that's why the law the law it's the law and I was telling you that the prince Antonio de Curtis he 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 bakery welcome to the stream how are you hello he 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 per vivere. Il lo faccio durante la giornata sotto il soleil, ma naturalmente lo faccio per fare delle belle action con il cuore. E' per questo che noi lo amiamo molto. Il Prince Antonio de Gurtis, se noi l'appeliamo sempre con il suo nome d'arte, che è tutto. E voilà. So, Bakery, buongiorno, qui in Napoli. Vuoi un caffè o qualcosa di altro? E' gratuito, puoi portare tutto ciò che bisogna qui, alla bar della farmia. E mi ha raccontato anche un po' di un aneddoto che riguarda il Prince Antonio de Gurtis, in arte totò. E questo è quello che poi alla fine mi ha raccontato anche mio nonno, quando ero più piccolo, mio nonno buonanima. Mio nonno materno mi diceva appunto che il Prince de Gurtis girava di notte appunto per non essere viste, insomma per... evidentemente per fare le cose in maniera reale. all'epoca, diciamo, i veri social erano le persone dei quartieri. E quindi poi lui quando è deceduto, ha praticamente ricevuto... sono stati... sono stati fatti due funerali, se non ricordo male. E c'è una foto molto particolare che si trova su internet, che mostra la chiesa nella quale... all'esterno della chiesa di Piazza Mercato, dell'attuale Piazza Mercato di Napoli, che era stracolma, stracolma di persone che erano andate lì a salutare per l'ultima volta la salma del principe. Una persona e un benefattore che... se volessimo paragonarlo a qualcuno che oggi fa la beneficenza soltanto per farsi pubblicità sui social... beh... direi che proprio... come diceva, parafrasando, una... una famosissima citazione del principe... Signore si nasce e io modestamente lo nacqui. E forse queste persone qua non... non sono proprio, diciamo così, delle persone ricche nel cuore, ma sono quelle persone che hanno bisogno di... di farsi uno spot pubblicitario... ehm... sui canali social per avere visibilità, per... operare altri svariati motivi. E allora... vediamo un po'... allora un attimo soltanto... poi ovviamente... i nostri sponsor sono anche... vediamo un po'... c'è anche... di farsi uno spot pubblicitario... maurizio... 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 oh yes... oh yes... quindi... e se poi voi... avete bisogno di... ad esempio... ehm... di muovervi... ehm... avete bisogno di... ehm... di un autista... e allora io vi consiglio questo autista qui... Femnobus quando vivi in là... questi... ci fatti... con chi sciar... dai... disate... come sai fatti che... tu sei Femnobus... ebbene sì... Femnobus 08... con la zappa storta... l'amico la zappa storta... e poi ci sono anche tanti altri canali... e spero di... avere un po' di ispirazione per creare... dei jingle... ehm... personalizzati per questi canali qui... quindi noi abbiamo... due... modi per... riprenderci un pochettino da una nottata... che è un po' così... ehm... un po' lunga magari... non l'avete fatto tardi... ma... si può anche... ad esempio... fare un po' di esercizio... un esercizio fisico... andando a fare un po' di corsa... e chi è... un appassionato di corsa... potrebbe anche... fare questo... WAPA RUNNER... ci siamo... WAPA RUNNER... eh sì... ebbene sì... ebbene sì... WAPA RUNNER... un altro amico... streamer... bravissimo streamer... ma... la maggior parte... tutti gli streamer... a modo loro... sono bravi... specialmente... soprattutto... per... ehm... noi un po' più... non proprio grandi... e... ovviamente... ovviamente... ehm... ci divertiamo... ci andiamo a salutare nelle live... quando qualcuno di noi live... si fa un po' di... ehm... di... qualcuno fa lo zapping... ma qualcuno come me... ehm... qualcuno... segue le live su monitor diversi... altri come me invece... praticamente aprono un po' di... ehm... finestrelle... ehm... di Windows... diciamo così... del browser... e ogni tanto... a random... ehm... vanno ad ascoltare... ascoltano l'audio... delle pagine... dei amici streamer... è bello essere solidali... e soprattutto perché... ehm... ci si dà una mano... e quando ci si dà una mano... a prescindere... senza tornaconto... credo che sia qualcosa di eccezionale... parafrasando... quello che è appunto... il motto di... di un personaggio di Diego Abbatanduono... oppo bacco... oppo bacco... oppo bacco... sto levettando... allora... ieri ovviamente... off camera... come ho anticipato... oltre a... ad anticiparmi... la live di... ehm... sabato pomeriggio con farming 22... mi sono anticipato anche un po' di lavoro qui... e quindi... ehm... ho arato il campo qua... non so perché mi è cresciuto l'erba... ehm... l'erbaccia comunque... arata... ehm... ho... ho poi fertilizzato ovviamente... e adesso... sono indeciso se... seminare la colza... oppure... 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 opparan... ehm... opp... opparan... ehm... 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 dicevo se... piantare... della... 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 colza... oh... semi di soia... però ho la vaga impressione che forse... devo cambiare la tag... eh sì... allora... mettiamo soltanto... ecco qua... perfetto... io ero scordato di... cambiare la tag... e quindi mi sono portato un po' avanti... del lavoro... di... ovviamente... ehm... avrei l'intenzione di... cambiare un po' ehm... le strutture... per... ehm... coprire... i mezzi... e ho... ho scaricato infatti la mod... sempre da mod hub... ehm... quella lì con... che hanno i pannelli... fotovoltaici... sul tetto... sono il gatto... il tetto che ascolta... tutto come fosse... la prima volta... su... tv... sorrisi e canzoni... di domenica mattina... se non ricordo male... ehm... c'era questa trasmissione... degli anni 80... barra 90... tv... sorrisi e canzoni... c'era anche un personaggio che era... un dj... fatto... di cui la testa era... in effetti una palla da... della discoteca... che parlava... erano altri tempi... Waju... altri tempi... eheheh... 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 E allora, poi, e quindi queste, allora, un attimo soltanto che vorrei fare un attimo una cosa. E allora, un attimo soltanto che vorrei fare un attimo soltanto, eccoci qua, K-Rocero, positivo e positivo, K-K, eccoci qua, eccoci qua, voilà, buongiorno, eccoci qua, scusate ma, andiamo avanti, vai giù, andiamo annanzo, ok, la live sembrerebbe essere stabile, o K-Rocero? Andiamo avanti, e allora facciamo così, quasi, quasi, facciamo così. Perfetto, ok. Eccoci qua, ci siamo. Grazie ancora a tutti quanti voi, come sempre, per essere accorsi a prendere questo bel caffè domenicale. Vediamo un po' se qualche amico o qualche amica vuole entrare in chat, può farlo tramite il canale Discord. C'è il link nella... anzi, quasi, quasi, mi metto il link nella chat. Allora, vediamo un po', facciamo un su. Vediamo un po', facciamo un po' di pubblicità, allora, su, vediamo un po'. Allora, va a che, va a che. Vediamo un po' di pubblicità. Oh, Battlefield. Ok. Devo iniziare a prendere la buona abitudine di fare il suo, come fa il mitico Fernbus 08. E ieri, anche, anche ieri, mi sono divertito insieme a lui, insieme anche a tante altre amiche e amiche che sono andate a seguire le loro live, anche a voi, come sempre, vi esorto in qualche modo a seguire e a seguire e sostenere i vostri amici streamer, soprattutto coloro che hanno appena iniziato questa avventura. Vediamo un po' di pubblicità. 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 Grazie.